Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre Notte Horror 5 novembre Cortometraggi 6 novembre Videoclip, animazione e documentari Dal 4 al 6 novembre Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera commentano la notizia del giorno. Anche quest'anno è arrivato Halloween, festa popolare di origine celtica che si celebra la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre con scherzi e travestimenti macabri e portando in processione zucche intagliate e illuminate all'interno. Prima di tutto, lei lo festeggerà? Non credo, mio figlio forse, ma io no. Io no sicuramente, ma mia figlia sicuramente sì, è piccolina, quindi se è un po' trasmessa anche in Italia questa piccola tradizione, ovviamente non dei migliori dei modi, perché Halloween fatto in paesi come America o altri è molto più riconosciuta e anche molto più partecipata da parte di tutti i cittadini. Invece in Italia purtroppo questo non è ancora molto efficace come risposta, almeno a livello di partecipazione da parte della popolazione. Credo di no, non lo festeggerò. Come mai? In realtà non appartiene ai festeggiamenti tradizionali della mia infanzia, però devo dire che la vedo come una tradizione sempre più radicata. Preferisco vivere da spettatore, ecco. Il fatto che non sia una festa della tradizione italiana classica, ma sia una festa, diciamo, importata da un paese straniero, pensi che sia sbagliato oppure no? Oppure è giusto che comunque venga festeggiata a prescindere dalla provenienza, dall'origine? No, no, che sia festeggiata, comunque io sono per l'inclusione in ogni senso, quindi che sia festeggiata, diciamo così, sarebbe bello che venisse festeggiata secondo le tradizioni celtiche. Ci sono altre feste che cadono in questi giorni, ci sono le feste indiane, ci sono altre cose, quindi ben venga che si festeggia, tenendo però a mente anche la tradizione celtica, non solo la parte consumistica, non solo quella. Qual è quella caratteristica della festa che secondo lei in Italia non viene valorizzata? Secondo me non viene valorizzato il fatto che Halloween sia comunque qualcosa relativamente sia al macabro, ma che abbia a che fare anche con un risveglio dopo, che centri la luce, la luce che viene dopo. E quindi non è solo il fatto di accendere le zucche, è legato al fatto che all'interno di un elemento naturale ci sia la luce che corrisponde anche a una luce interiore e questo non viene valorizzato, viene valorizzato solo il fatto dello scherzetto eccetera, il resto no. E credo che si debba andare a rivedere allora che cosa davvero voglia dire Halloween. Questa è la mia personale opinione però. Io credo che ognuno sia propenso a fare ciò che debba fare con i propri coprimezzi, con le proprie cose, con i propri piaceri. Poi ovviamente c'è chi piace il carnevale, chi è più tradizionalista, per me invece non crea nessun disagio, anzi penso che tutte le cose se sono per portare gioia e serenità alla gente benvengano e benvenga fatto, si mancherebbe. C'è chi la considera una festività legata a Satana, il 31 ottobre sarebbe anche l'inizio del nuovo anno per le streghe, per cui chiede che questa ricorrenza venga dimenticata ed abolita. Cosa ne pensi? Penso che in Italia si festeggiano i morti e quindi in tradizione si portava il calzino, almeno nelle parti meridionali dell'Italia, visto che sono meridionali, la sera dei santi o dei morti, la notte di Halloween, così considerata la notte di Halloween, in Italia si metteva il calzino davanti al camino perché i morti portassero i dolcetti ai propri nipotini e queste cose qua. Quindi è una tradizione anche italiana ma festeggiata in modo diverso, semplicemente questo. In Halloween in paesi americani vanno porta a porta i bambini, i traversiti, la maschera, fare il dolcetto a scherzetto. In Italia semplicemente i ragazzini la mattina dei santi si alzavano con la calzina, con i carboni oppure con dolcetti vari, che è poi la stessa cosa, solo che noi l'abbiamo fatto in modo diverso. Solo che si metteva il calzino sporco del nonno magari dietro sul camino, eccetera, semplicemente questo. Ma io credo che l'Italia sia il paese per eccellenza dell'apertura e dell'accoglienza, quindi diventerà una delle tradizioni classiche nel futuro. Chi suggerisce che Halloween è una festa legata a Satana e che quindi andrebbe evitata o che comunque potrebbe trasmettere addirittura dei messaggi negativi ai bambini? Pensi che stia esagerando oppure potrebbe esserci del vero? Ma credo che Satana e i bambini sia di per sé uno simolo, quindi assolutamente no, è un'esagerazione. Grazie. Grazie.